Sì, per la prestazione siamo soddisfatti, abbiamo giocato bene, abbiamo giocato meglio della Juve secondo me e dopo la non qualificazione per la finale siamo un po' amari, però c'era anche la parte addendata però ieri abbiamo fatto vedere che c'è stata una bella reazione e abbiamo fatto anche vedere che siamo più forti della Juve Sì, però anche durante tutto il campionato, dopo i scontri diretti che sono stati quest'anno diciamo che è stata pari, però ieri abbiamo fatto vedere quanto alziamo il ritmo che non ce n'è per nessuno però adesso dimentichiamo questa semifinale e pensiamo al campionato che è un obiettivo importante e anche alla partita di Champions, che adesso giochiamo questa sfida contro il Barcelona senza paura perché siamo il Milan e secondo me se facciamo due partita perfette possiamo passare il turno Sì, è vero, un bel gol, un bel passaggio di Mexes Sì, un bel gol, però alla fine è stato un gol inutile perché non siamo qualificati però sì, va bene, questo primo gol, però adesso metto dietro, metto tutta questa partita, questa coppa dietro e pensiamo alla partita di sabato